A Rivoli ha prodata la corsa ciclistica in linea più antica al mondo, la Milano-Torino, organizzata da RCS Sport. È stata un'occasione importante per la promozione del territorio, colta dalla strada reale dei vini torinesi, dall'Enoteca regionale di Caluso e dalla Camera di Commercio, per promuovere con gli ospiti e con i giornalisti presenti in sala stampa le eccellenze dei quattro territori vitivinicoli, della Valsusa, del Canavese, della Colina Torinese e del Pinerolese. Alessandro Comotto, vicepresidente della strada reale dei vini torinesi, la Milano-Torino e speriamo altre occasioni di grande visibilità per queste eccellenze. Sì, sicuramente, un'ottima visibilità, quindi abbiamo colto al volo quello che è stato l'invito sia del comune di Rivoli che dei RCS che poi organizza tutta un po' la rassegna stampa e non solo. E quindi per noi era importante essere qui e far conoscere quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Sicuramente sono quelle occasioni in cui ci facciamo conoscere un po' più a livello nazionale, non sempre solo a livello locale. Si parla di ciclismo, di arrivo della Milano-Torino a Rivoli, ma si parla anche di territorio divino e in fatto divino Rivoli sta portando avanti una riscoperta della propria tradizione sulla collina morenica. Esatto, è un momento anche importante per quello che sono le eccellenze del territorio. Bene, vedete che noi sulla nostra città abbiamo tutta una serie, come dicevo prima, di eccellenze legate anche al passato che oggi mi piacerebbe soprattutto come sindaco riportarli al presente. Abbiamo delle eccellenze di vinificatori che la città offre e quindi è anche giusto portare in risalto questa realtà, in realtà soprattutto fatta da persone molto giovani che credono in agricoltura, credono nel territorio. Paolo Bellino, direttore di RCS Sport, per te oggi è anche un ritorno a casa nel tuo territorio, diciamo così, ma voi che organizzate Giro d'Italia, Milano-Sanremo, Milano-Torino, Gran Piemonte, vi rendete conto di quale formidabile veicolo promozionale per i territori avete messo in piedi? Intanto grazie per l'opportunità, per me non è solo un ritorno a casa, io sono molto emozionato oggi perché torno veramente nella mia città, sono nato e cresciuto a Rivoli, la mia famiglia, mia mamma vive ancora qui a Rivoli e per me sono veramente le radici, quindi il portare un evento sportivo nostro proprio a Rivoli mi crea un'emozione molto particolare. Noi non solo siamo consapevoli dell'importanza che ha il territorio, ma stiamo facendo per la promozione del territorio e per la valorizzazione di tutto quello che riguarda il territorio intorno a una corsa, una nostra battaglia personale che ha trovato, devo dire, con grande spirito di collaborazione, anche il governo italiano attraverso l'ENIT e il Ministero del Turismo per raccontare proprio tutte le bellezze del territorio perché noi adesso abbiamo circa 45 giorni di corse all'anno, partiamo con le strade bianche in Toscana, finiamo la parte primaverile con la Milano Sanremo, abbiamo poi il Giro di Sicilia ad aprile, il Giro d'Italia e chiudiamo con la classica delle foglie morte che è il Giro di Lombardia e il Giro del Piemonte. Io ormai ho fatto diventare una sorta di claim e di slogan il fatto che il Giro d'Italia è la corsa più dura del mondo nel paese più bello, perché è questo che noi raccontiamo, raccontiamo una grande evento sportivo, una grande corsa ciclistica, il Giro d'Italia piuttosto che le altre classiche che ho citato prima, che sono delle gare con grandissimi campioni e con una valenza agonistica molto importante, ma che raccontano il paese più bello del mondo e il paese più bello del mondo lo raccontiamo in tutte le sfaccettature. Partiamo dal mare, arriviamo in punta alla montagna nella stessa tappa. Arriva la Milano Torino a Rivoli, presto il Giro d'Italia, Santena Torino e poi Rivarolo Cogne. Jacopo Suppo, vice sindaco metropolitano, questa è sempre una grande occasione di promozione e anche lavoro per la città metropolitana, perché poi le strade qualcuno le deve preparare per queste grandi corse. È vero, assolutamente sì, ma è soprattutto un grande lavoro di promozione del territorio, far scoprire al grande pubblico le bellezze della città metropolitana di Torino, non solo da un punto di vista naturalistico, ma anche da un punto di vista enogastronomico. Siamo qui a Rivoli, all'arrivo della Milano Torino, dove dei produttori locali di vino hanno allestito uno stand meraviglioso per far conoscere al grande pubblico quelli che sono i loro prodotti e le loro peculiarità. Grazie.